ciao 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 a tutti bentornati in questo nuovo gameplay dell'angler game siamo di nuovo qua credo di aver appena ottenuto una vita extra benissimo siamo in tropical coast zona 3 con il maestro che sono riuscito a sconfiggere nel precedente pepi ho osservato il riccio blu ed è più forte di quanto mi immaginassi ha delle ottime potenzialità ma che ce ne importa di lui ora che sono libero voglio ridurre mani in polpette e poi di sicuro vorrai mangiare ma certo esiste un modo migliore per farlo soffrire ma sarà così delizioso e se dicessi che potrei distruggere il mondo di eggman e usare la sua energia per renderci incredibilmente potenti beh io direi che sono stato un buon maestro esatto proprio così no e sarà la creazione dello stesso eggman a distruggermi sembra un livello alla rayman che sono pezzi ops ok non Hart l'anno st Grazie a tutti. 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 Ok... Ok... Qualcosa è andata storta. Ok... 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 Ok...